Ciao io Allora gente Abbiamo due box di colpo fusione Che ci ha mandato il Fedrick Store Per questo Natale contro Frozen E dobbiamo vedere chi riuscirà ad avere più culo Con 36 bustine a testa Di solito Per chi non lo sapesse non ha visto i live In cui di solito facciamo queste sfide qua Ci va entrambi Di cacca Spero che per una volta per il Natale contro Frozen Ci riusciamo Qualcosa di bello Please Fedrick Store Fedrick Quale scegli? Ti do la possibilità di scegliere Dato che sono l'ospite e non gioco in casa Esatto Sinistra è testa Destra è croce Va bene E faccio tirare una moneta a Google Va bene Ok Google Tira una moneta È uscito croce E io mi prendo questa allora Abbiamo ricevuto la nostra risposta Stata che va negli occhi Io c'è la mia prima bustina Corby square Bellissimo quel dark È un sacco Bello anche il croconave Sì Bello Shelmet Sì Bello Slug Ma Che ti Falinks Ci stanno entrambi secondo me questo Ci stanno entrambi secondo me questo Cursola Viewer reverse E hai qualcosa Non è niente Hai un oricorio Bello l'artwork Ma non c'è niente Hai qualcosa tu E lo esco niente entrambi 3 2 1 Acqua Erba Oh Ce l'ho fatta La scosolta Non ho azzeccata Una Una in 18 Nine tails incredibili Bello x ball Questa cosa non è vello x ball È uno screenshot di spade di scudo Polesemente Scolo è una full art comunque qua Te c'è una full art Mi sa Vai tu Oh Vedi che ti ho detto Il quinto pacchetto Oh Quinto pacchetto anche te per te Mi sa Fai un pochino Ma 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 Inizio in pareggio Mai fatto fino adesso Fuoco Dammi un Cinderace Gigamax Acqua Bellissimo Chandelure Mamma mia Interleon Ma che belli 3 a 3 Palla al centro però Questo è un problema Dai che per una volta Abbiamo iniziato abbastanza bene Dai che per una volta Forse abbiamo dei box buoni Fuoco Acqua In business reverse Poggin E invece Poggin Poggin E' una gold E' una gold E dammi questo pokemon gold E dammi questo pokemon gold Energia gold erba E si prende il vantaggio per una volta 8 a 3 No è il go Io non sono il più grande fan delle energie gold Però sono comunque belle Cioè dove stessi scegli tra Energia e pokemon Sceglierei pokemon Però non mi metto Ma quindi google mi ha tradito L'iprass Uh bello l'iprass Guarda che c'è qualcosa 9 a 3 9 a 3 9 a 3 con un pikachu tra l'altro Attenzione un pikachu Che schifo La mascotte della serie Cosa strana comunque Hanno fatto espansione grand fest Sono letteralmente 45 carte di pikachu E espansione successiva Pikachu Mancava da un po' in effetti Vabbè come c'ha risato Ce n'era bisogno Ma c'è risato non c'è sempre Golem Bello golem Sta per esplodere E' gli ultimi secondi di vita il golem Che poi si trasforma in un Landaros Attenzione comunque Attenzione Questo golem Ha vissuto una vita Importante Qui c'è una carta rara Qual è la tua carta rara Fai vedere Oh Cazzo è davvero una carta rara What the fuck man 4 a 9 Genesect Bello Bello Oh comunque sono ancora sotto di 5 Sono ancora sotto di 5 Mandibuzz Che bello Che schifo È una V Però hai trovato una gold tu Ah è bella come cazzo Abbiamo 4 di differenza Eh non mi alento Ma io si Che bella No Non in quel senso È bello l'artwork Fansage Baltoi Eh 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 Un Cazzo Spion Fiosman Smisse 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 Oddio Plazo In questo video non si capirà Un cazzo Quanti spugnosi Ma che servono Ma anche a livello di LOL Cosa servono nel mondo di Pokémon i guanti spugnosi Non ho utilizzo una spugna E dei guanti di gomma Vabbè non ci facciamo domande Cravagna Bello C'è qualcosa Vai gira tu gira tu gira tu gira tu C'è qualcosa di buonissimo Tu è la V Io ce l'ho la V Io ce l'ho la V Io ce l'ho la V Brilum V Cosa c'hai te da Invece non c'è niente Pensavo di sì Brilucicava un po Scusa Ti odio E invece si guadagna il vantaggio E torniamo a un comodo comodo Distanza di cinque punti Una comodissima distanza da cinque punti Con questo ultimo pacchetto Della prima metà del box Siamo solo a metà la gente Ma se questo video Non durerà ancora troppo lungo Vuol dire che nella seconda metà Non c'è un cazzo Kate Park Hai qualcosa dietro Cagascan Oh 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 Greninja Un bello Greninja V Attenzione Esteticamente Bello Si torna a quattro punti di distanza Bello Sì Ma non ti accontenta Non ti accontenta La fame Si fa sentire Non ho trovato niente We stay hungry We devour Seconda metà del box La prass Studente Minum Baltoie Korsla Grillfish Bullpix Alternative L'esco 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 L'alternative Quella Sanda conda Che si Scalda vicino All'ultimo Sifone 6 a 11 10 a 11 Per te No Non dovrebbe andare così Un altro Ogni volta Mi compare uno Più delle carte rare Vere e proprie Guanti reversi Zictini Ah cazzo Guanti reversi Dai qualcosa Dai qualcosa Oh Pareggio Pareggio Vai Acqua Greninja O Intelion Intelion O Greninja O Greninja Oh Intelion Intelion Ce l'avevo già Davvero Mi sa che l'avevo Sbustato la scorsa volta Assieme a te Dopo evoluzione Terra Non ci sorprendiamo Più di niente Dopo evoluzione Dragon Quattro Noi Gran V In un singolo box Siamo a posto Non mi piacciono Nell'olio Sai Scoperta Dell'avventurienza Quella ci può stare Quella ci può stare Io ho Totodile Si vede Il Totodile Mi darà la forza Tu hai qualcosa Il mio start preferito è tipo acqua Mi permetterà di avere Oh O il contrario di prima È il contrario di prima È vero Torpeco Munna Tu hai qualcosa Gira Madon E adesso è merda E ora è merda Wow Compressa energetica E ora è merda Wow Il vantaggio di 5 16 a 11 16 a 11 È pessima Io mi lamentavo Ma Adesso Adesso non ti puoi lamentare Adesso mi posso lamentare Federic Grazie Oh Aspetta eh Abbiamo ancora un po' di pacchetti Federic Vagà arriva il vantaggio Vagà arriva il vantaggio Oh Oh È una vola L'avevo già vista È una vola Girala tu la mia Va Non giragli la tua Girala È una Vimax È una Vimax È una full art È un qualcosa Girala qua Girala qua Io non l'ho vista Io non l'ho vista Vai Altri tre punti 8 punti di vantaggio 8 punti di vantaggio E codice sconto questo mese no Può essere Codice sconto Grazie a sconto Grazie a sconto Su FedEx Per avere 500 di sconto Suo sto primo acquisto Del mese Del mese Fantanile Drillbushinux Buneri Basculin Grubin Nineuteis Oh Normale No non Grident No non Grident Dammi il Grident Alternative Che merda Che un fan Vai vai ce l'hai ce l'hai ce l'hai Let's go toxtra Adesso devo fare più di 8 punti Unico modo Secret Rare Più alternative Ultimi tre pacchetti Speedrun Speedrun Sai cosa facciamo Prendiamo soltanto la reverse holo E la holo in fondo Sì E le mostriamo tutte insieme Quindi facciamo Uno due tre quattro Queste due Le mettiamo da parte Ok Per tutti Tutto il resto Sì Tutti gli ultimi pacchetti Tutto il resto sono comuni Tutto dipende da quello che ci esce In queste ultime Tre bustine Ultima bustina Facciamo Queste Sono tutte carte comuni Che abbiamo escluso Ora ci rimane soltanto Questo piccolo Stack Di carte reverse holo O meglio Tre Due Uno Vabbè la reverse era ovvio Che ci fosse Però l'importante È quello che c'è Quello che c'è dietro la reverse Tre Due Uno Ho due bustine Per batterti Non c'è niente qua Ma cuita La reverse Tre Due Uno Oh Oh Non posso più fare niente E talmente Tre Due Uno Oh Non ho trovato Una full art In due box e mezzo Non ho trovato ancora una full art In due box e mezzo Troppo 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 Troppo